È la libertà, correre per me è libertà, è la capacità di esplorare, di liberarmi il lamento. La sua storia di ultramaratoneta iniziò una notte a San Francisco. In un locale una donna gli si avvicinò e lui, per non tradire la moglie, uscì e si mise a correre e come Forrest Gump non si fermò più. Unico atleta al mondo ad aver corso quasi 600 km in 80 ore, per lui una maratona. È un normale allenamento, ne ha corse 50. In 50 è buona. Perché sono pazzo fondamentalmente e perché è la mia passione. Come faccio a correre con la mente perché il corpo ti porta soltanto fino a un certo punto. Come faccio a correre con la mente perché il corpo ti porta soltanto fino a un certo punto. E poi penso alle sfide, penso a dimostrare di essere migliore di quello che già sono. Una vera e propria missione per diffondere la filosofia del benessere, come fece la Casa Bianca sposando il progetto di Michelle Obama per rimettere in salute gli americani. Oggi è a Roma per raccontare il suo stile di vita, per promuovere i valori dell'attività fisica e parlare del suo futuro. La prossima sfida sarà quella di correre una maratona in ognuno dei 205 stati del mondo in un anno. Considerato l'uomo più in forma al mondo, lui che ha attraversato deserti e montagne innevate, non rinuncia al cibo italiano. I love Italian food!